Siamo con Lucas Castro, Lucas intanto una definizione per questa tua prima stagione in rossa-azzurro? No, la verità è che molto contento per il campionato che abbiamo fatto e niente, solo per ringraziare la gente che loro lo hanno accompagnato tutto l'anno. Ti aspettavi un primo anno in Serie A con così tanto spazio, che è stato impiegato quasi sempre, anche se magari non dall'inizio, e con i numeri che comunque sei riuscito a mettere sul campo? No, non me lo aspettavo così di giocare tanto, ma anche per quello sono molto contento perché l'aspettativa ha sido buona. L'anno prossimo probabilmente non ci sarà Gomez, ci sarà Leto, come vedi questo nuovo possibile attacco? No, bene, aspettiamo che lui si recuperi della lesione che ha e niente, lavorare per fare una buona strada. Grazie. 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 Grazie.